Era ora! Dopo diecimila anni lì dentro, uno si ritrova col collo tutto incriccato. Uah, fermo, frena! Ah, che favola essere di nuovo fuori, ragazzi! Alla, all'idea, 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 signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami? Eh, Aladdin. Aladdin. Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al, o magari solo Dean? Che ne dici, Dean? Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady! Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi. Regola numero uno, io non ammazzo, quindi non chiederlo. Regola numero due, non posso far innamorare qualcuno di qualcun altro. Bello il mio romanticone. Regola numero tre, non posso assolutamente far risuscitare i morti, intanto non sono un bello spettacolo e mi fanno anche un po' sclifo. A parte questo, chiedi pure. Bene! Sentiamo che cosa ha da dire ora il nostro scettico blu. Oh, beh, mi hai convinto. Tornando ai miei tre desideri. Che cosa odono le mie orecchie? Tre? Tu a ferra hai già consumato uno, diavoli! No, io non ho espresso il desiderio di uscire dalla caverna. Hai fatto tutto da solo. Chi pecora si fa il lupo se la beve? E va bene, che bestia, però niente più extra, ne? L'unico che potrebbe liberarmi sarebbe il mio padrone usando uno dei suoi desideri. Ma te lo immagini quante volte è successo? Lo faccio io, ti darò la libertà. Come no? Ho le ricette. Re del pollaio? No, granchio reale inumido. Ah, e che permaloso. Salsa Cesare. Ah, tu cuoco e brutte. No, aha, per fare un principe. So, quale modo migliore di fare il suo ingresso trionfale ad Agrabah? Se non incroppa un cammello, nuova notizia! Oh, cioè, il cammello sputa. Non mi convince. No, 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 figuriamoci. Proviamole tutte. Ci sono! Esa la lumba d'umba biturbo! Mica male come mossa. Roba da pazzi, questo mi ha messo a tappeto. Genio, ho bisogno di aiuto. Ascolta, cocco, le chiacchiere stanno a zero. Se vuoi rimorchiare la ragazzina, l'unica cosa che ti resta da fare è scoprire le tue carte. E ciò? Dille tutta la verità. Ma sei matto? Se Jasmine scoprisse che in realtà sono uno straccione da quattro soldi, riderebbe di me. E beh, le donne adorano un uomo che le fa ridere. Oh, venite, venite tutti quanti, qui ci vuole un abbraccio collettivo. Che succede se do un bacio allo scimmiotto? Ah, che schifo, peli. Beh, che dire, non so più che fare da queste parti. Perciò io taglio la corda! Il saluto! Ehi, senti letto, ciao! Fino della storia, no anche fine della favola. Beh, ragazzi, fate un po' voi, io me ne vado! Sono libero!